Sei seggi al centro-sinistra, due al centro-destra e uno al Movimento 5 Stelle. I lunghi conteggi che hanno seguito lo scrutinio delle regionali hanno in serata finalmente dato contezza dei salernitani entrati a Palazzo Santa Lucia. Sono nove, tre vecchie conoscenze del Consiglio regionale, i riconfermati Franco Picarone, presidente della Commissione Bilancio e record assoluto di preferenze con oltre 21.000 voti, il delegato ai trasporti Luca Cascone 16.180 voti e il grillino Michele Cammarano 3.974 voti e poi sei new entry. Oltre a Nino Savastano 16.569 preferenze, al socialista figlio del sindaco di Bellizia Andrea Volpe 9.859 voti e per il centro-destra all'ex sindaco di Sant'Egidio di Montalbino Nunzio Carpentieri 9.530 voti ci sono i rappresentanti del territorio più a sud di Salerno Tommaso Pellegrino che trascina in un'ottima performance il partito di Renzi Italia Viva con i suoi 12.400 voti l'assessore regionale uscente Corrado Matera 12.459 voti e a sorpresa Tilio Pierro che con i suoi 4.515 porta per la prima volta la Lega nel consiglio regionale campano risultando il più votato del partito di Salvini e superando l'ex rettore Tommasetti dato per favorito. La seconda sfida tra Pellegrino e Matera dopo quella per il parco è finita quasi in parità e ora i due saranno compagni nell'avventura Palazzo Santa Lucia Complessivamente la lista più votata nel centro-sinistra resta quella del PD sebbene in base alla legge elettorale questa volta non scatti il secondo seggio andato invece ad un'altra formazione della stessa coalizione Dopo la lista di Luca Presidente Italia Viva a regalare numeri elevati oltre 173.000 voti a sorpresa vista la performance opaca a livello nazionale perdono consensi a livello regionale e socialisti che però in provincia di Salerno ottengono oltre 36.000 voti attestandosi come quarta forza della coalizione malgrado le previsioni e le tutele della legge nessuna quota rosa riesce ad entrare in consiglio regionale neppure la favorita di Fratelli d'Italia Imma Vietri che resta la più votata tra le donne ma non riesce a superare il collega Carpentieri neppure Maria Ricchiuti con i suoi 4.410 voti riesce a tornare a Palazzo Santa Lucia non ce la fanno tre candidati a sud di Salerno per il centro-sinistra Donato Pica 1.482 voti Vincenzo Guida 992 Simone Valiante nonostante gli 11.511 voti Giovanni Guzzo 5.163 Ernesto Sica 4.076 e per il centro-destra Giovanni Fortunato 4.586 voti Francesco Bellomo 934 Valentino Di Brizzi 2.259 Costabile Spinelli 3.476 e Antonietta Coraggio 2.407 Suocio Buoto 5.155 Carpentieri 5.156 Carpentieri 5.156 Carpentieri 5.167